Mica contenti le famiglie ragazzi con tutta quella roba delle bollette elettriche Allora Mi è arrivata un'assolata ragazzi Spendo di più adesso che quando ero là a giocare di luce Finalmente buona serie del 1 Bentornato adesso che mi torna a compagnia Prenditi grazie degli 8 bentornato Ah raga ma è devastante È molto crisp come risoluzione comunque Tieni premuto F Oh sta ciucciando l'anima di una tizia Delu prepara la carta di credito su sto gioco Oh no no Sul serio? Ci sono un sacco di modifiche da fare Si vede che è proprio un gioco in fase embrionale Però fra Considera che è ancora una beta L'hanno presentato lo showcase di Sony questo Ok sto vedendo che ci sono le armature Ci sono il pompa Le lame Il fulcro è giucciare i civili Devi giucciare tutti Devo giucciare tutti i bastardi C'è il brutto e il vandalo Il brutto e il vandalo sono molto fisici Quindi c'è un'abilità da vicino Il sabotatore è uno di quelli che se tipo stai fightando Sparisci per tipo 4-5 secondi Buon appetito comunque Il mio personaggio quanto è figo zio Mi fai entrare voglio vedere il tuo giocatore Gabbo salutami Giuseppe Ho invitato Delu Delu 104 delu 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 Eccetta Non ci sono Ciao Delu Fammi vedere Fammi vedere Fermati No qua Eh c'hai la luce intorno Non vedo un ca Ma la luce intorno Sì non è male Non è male il tuo personaggio Mi fa un po' cagare Mi fa un po' cagare Mi cazzo ti permetti Stupido Ma schifo Oh Paco Lo sfera tu Siamo a Praga qua Ieri Giorgio ha chiesto esplicitamente Agli sviluppatori di mettere il castello del porno Mi spese a Praga Ma perché so queste cose Costa poco Praga È andato lì e si è fatto dieci puttane Eh Giorgio oggi Di qualcosa Siamo a destra Minchia Siamo circondati Oh Paco Alì c'è tipo pollicino Cioè io vado in giro per casa Trovo i pezzi di cibo Lasciati a metà Che è incredibile Adesso ho trovato un brownie Ma tutti i sardi fan così Adesso io voglio sapere Dai sardi se onestamente fate così Dai Michelino fai così tu Michelino Lasci il formaggio in giro per casa Ti è assaggiato il casu marzu No non si può È legale È legale la vendita Ma ho capito Ma è legale anche il possesso Cioè Nel senso Eh minchia non è mica una droga Oh Paco Stai scherzando È legale la vendita Che cazzo fai Lo regali allora No ci sono tipo i produttori Zugu zugu Che se lo fanno per loro E lo fanno assaggiare Se vai a vedere glielo chiedi Ma me la mp7 Dai lo devi venire da noi Occhio Stai attento Allora qua c'è la balestra Blu per te Raga uno se fosse frullato A fianco a me La Che La su marzu è il formaggio Con i vermi Ma io non so se sarà la balestra Ma la balestra esplode Si esplode Lascio puzzones Che che va a sparato Allora vedo Mi è arrivata una sniperata Non so da dove Mi sono avvicinato loro Se gli lanci una puzzona È one hit quello Oh da Fatto Fatto questo Fatto Lo devo giocare però No aspetta Non ho vita Vai Arriva G No cazzo Sono in troppi Arrivo Sì Qua 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 Mi devo giocciare il suo amico Perché non ho vita Qua 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 Colpito Fatto fatto Ti gioccio Ti gioccio il sangue bastardo Ah dammi tutto il tuo sangue Anche la doppia pistola Oh vedi quello che ti trovi meglio è tu Frass Ti trovi meglio con la cappa Il doppia pistola Chi ha sparato? Dammi dammi pull Aiuto Pull team? Sì Sono sotto Sono sotto Sono sotto loro dico Ti seguono Ti seguono Dato Uno Dato Una terra Va Treguonite Da te Delu Dai ho finito tutti i colpi Dai ho finito tutti i colpi E sopra te Delu Non lo vedo Cazzo no Beh Noo Mi sono piastrato Che palle Sono un coglione Devi salvarti Delu Scappare Mettiti in safe E restarci Ti ho cagato in testa? Suggetti una persona Dopo che Così ti dà vita No ti spottano Ti spottano No non è vero Eh sì Ce ne ho tre di fianco Eh ma devono essere davanti Enzio Ok là c'è il rest Perfetto Sì 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 Devono essere proprio Davanti Devono vederli Tutte le volte Cazzo ne ciuccio Uno se non sparo Mi spottano Cazzo ma arrivano imbloccato Quando resti È impossibile Se sei in un fight Eh lo so Infatti Mi sta attento C'è qua davanti a noi raga Fair party Ma sono là dietro tipo Ma sono uno qua davanti Fatto? Ah forse si L'hai presa tu Io ne ho sedici Tre qua davanti raga In questi tetti Uno qui Uno lì Per party Vado Uno fatto Pusho io Pusho andiamo? Sì sì Vai vai Uno a terra Occhio da destra Eh io punto 161 raga 161 Posso che c'è la mia p7 Probabilmente ora Eh Raga lo teniamo a mano con questo Ci sono ci sono C'è no Ok ho pusho uno Sei qua Non me lo faccio in gara Ha bisogno di armor? No, dovrei averne uno forse Raga, si fighta, non si fighta, andiamo Aspetta, 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 ho bisogno di illarmi un attimo e di ricaricarlo Non sapevo che la cadenza della palestra era così Andiamo raga Faccio che è una brutta posizione questa Prendiamo il loro posto Vai, 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 sto salendo Fuori zona quel posto Due sono sotto, uno sopra Uno dritto a voi Mi vedo Di fronte One hit Forza puttana Andato? Raga, non so cosa ho fatto Ho fatto un disastro Raga, io l'ho fatto Non so cosa ho combinato Comunque tipo ho sparato 12.000 robe con le balestre Morti tutti A vedere se riesco a backdorarli Svegli con me Svegli qua 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 lato uno sono gli ultimi ma se vi cerciamolo è un minto c'è uno qua che si sta restando da me da me uno hit bravo dai lui no 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 5 secondi ma vedi che mi prende le armi si ringa qui se la volete no no io ho bisogno di swapare no 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 controlla se hai la granata se hai quella granata il 7 no non ce l'ho mi cura dalla safe sono morto perché mi sono chiuso qua dentro eh raga un po' tutti e due mi sa no no forse ce l'ha fatto no ce l'ha fatto anch'io preciso si li ho visti pingari se riesci sono in 3v3 ok uno a terra lasciamo gli altri ok due down rimane l'ultimo dg cazzo bello finchia 3000 danni raga 8 kill 8 assist bello vero comunque raga super frenetico eh ti ho detto che appena impari a giocarlo zio diventa bello figo ah ragazzi bacione ah g ti vediamo più tardi a più tardi ciao sbambe ciao 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 ciao